Caro energia, inflazione, scarsità di materie prime, recessione. Sembra che sulle PMI si stia scatenando la tempesta perfetta. Uno tsunami di eventi negativi che rischia di mandare al tappeto gli imprenditori e costringere decine di migliaia di imprese alla chiusura. La tua azienda è in grado di superare tutto questo? Ben poche imprese sono in grado di resistere a lungo a questi stravolgimenti epocali, ma alcune hanno più possibilità di altre di uscire senza intoppi, senza troppi danni, da un periodo storico così complesso. Come fai a sapere se la tua azienda è tra queste? Esiste un modo rapido ed efficace per controllare lo stato di salute della tua azienda, capire se finanziariamente se la passa bene o se manifesta i sintomi latenti di una malattia che rischia di metterla in difficoltà. Il mio ufficio studi l'ho realizzato per fornire ai nostri business tutor uno strumento diagnostico a supporto del lavoro di analisi che fanno con gli imprenditori che ci contattano. E ho deciso di metterlo a disposizione delle persone che mi seguono gratuitamente, ma solo per un periodo di tempo limitato. Clicca sul pulsante che trovi qui sotto o sul link che trovi nella descrizione e accedi al portale dal quale potrai scaricare il kit diagnostico termometro aziendale. Il kit include il modello di calcolo predittivo, la guida all'uso dell'algoritmo, le istruzioni per interpretare i dati e i riferimenti del nostro team di business tutor. Non rimandare! Questo strumento resterà gratuito solo per una settimana. Clicca per saperne di più.